Il prefetto Vittorio Lapolla oggi ha radunato in videoconferenza i 53 sindaci della provincia di Pesaro e Urbino per discutere sul nuovo decreto e in particolare sulle restrizioni anti-covid. Al centro del confronto la chiusura di vie e piazze dopo le 21 dove potrebbero crearsi degli assembramenti. Nessuna chiusura per piazze e vie a Pesaro ma nei cosiddetti luoghi della Movida saranno effettuati maggiori controlli per contrastare gli assembramenti e per chi non rispetterà le regole le multe saranno salate. E' questo il quadro emerso nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Vittorio Lapolla che questa mattina ha chiamato a raccolta i sindaci della provincia, oltre ai vertici dell'autorità sanitaria, delle forze di polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Scolastico Provinciale. L'incontro si è svolto per esaminare alcuni punti dell'ultimo DPCM relativamente alle nuove strette anti-covid con l'intento di contrastare la progressiva crescita dei contagi. Nel territorio provinciale saranno così intensificati i controlli in tutti quei luoghi considerati sensibili e pericolosi ai fini di un potenziale contagio. I controlli saranno intensificati sia nelle zone in prossimità degli accessi scolastici perché abbiamo visto che molti contagi avvengono nelle scuole ma non all'interno dei presidi scolastici quanto più è facile che in momenti di aggregazione immediatamente precedenti o successivi alle uscite quando si raggruppano questi ragazzi ma anche tutti quei luoghi in cui i locali possono creare raggruppamenti di persone ma anche la zona del lungomare, via Aldomoro, via Cavurba, via Flaminia, le zone in cui i giovani nelle fasce pomeridiane del fine settimana, nelle fasce serali, sempre the weekend, tendono ad aggregarsi. Evitiamolo e quindi un appello alla responsabilità ai giovani perché serve l'impegno e la sensibilità a loro perché la polizia, le forze dell'ordine, le polizie locali intensificheranno questa attività di controllo. Tutti poi i partecipanti al comitato hanno condiviso l'esigenza di un forte appello alla comunità che sarà reiterato poi dai sindaci a livello locale alla più rigorosa osservanza delle misure di contenimento e al senso di responsabilità di tutti i cittadini. Differenti le posizioni dei cittadini pesaresi sul rafforzamento dei controlli c'è chi è d'accordo e chi invece lo trova un provvedimento esagerato. Speriamo che i cittadini capiscano di essere accorti con mascherine, distanziamenti, tutto quello che serve e che insomma loro facilitano anche in questo modo il compito dei sindaci ma i sindaci devono essere accorti, molto accorti. Bisogna rispettare le regole, rispettare gli altri e i sindaci devono avere quel potere giusto e di saggezza di controllare le cose e farle rispettare. Secondo me è un po' esagerato, cioè ok ci sono tanti assembramenti però mi sembra un pochino eccessivo chiuderli dopo le nove perché non è che prima delle nove gli assembramenti non ci sono perché alla fine se i ragazzi sanno che dopo le nove le piazze dei vie principali sono chiuse o escono prima o comunque vanno a fare assemblamento magari in altri posti dove non è vietato quindi alla fine l'assemblamento c'è comunque volendo. E poi per dire se chiudono via Branca chiudono anche le vie con i negozi. Esatto.